Ben trovati alla prima edizione del TG6, in apertura la politica con la polemica sollevata da Forza Italia sulla programmazione dei fondi strutturali. Secondo gli azzurri la sicurezza degli abruzzesi sarebbe a repentaglio perché sono stati rimossi e rimodulati importanti fondi destinati a frane, dissesti ed emergenze per altri scopi come ad esempio l'acquisto di nuovi autobus della tua. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sospiri avete denunciato questa mattina in conferenza stampa come alcuni fondi strutturali che erano destinati al combattere il dissesto idrogeologico nella nostra regione siano stati utilizzati per altri fini e altri scopi come l'acquisto di nuovi autobus tua e per questo avete scritto una lettera all'attuale presidente vicario della regione Lolli. L'aggiunta d'Alfonso prima che terminasse questo pessimo governo regionale prende 10 milioni di euro del dissesto idrogeologico di un fondo complessivo più ampio e li dà a tua per comprare gli autobus. Cioè non abbiamo preso i soldi per le frane per salvare la vita della gente, i beni, le case, le infrastrutture primarie come le strade provinciali o i capannoni artigianali e li abbiamo dati a tua per comprare gli autobus. Nulla contro l'acquisto dei nuovi autobus ma credo che i soldi per finanziarie non fossero quelli per contenere il rischio delle frane. In passato era stata fatta una gradatoria, questa gradatoria è fatta tramite criteri oggettivi di un sito internet che si chiama Rendis che calcola la gravità della frana e il danno che procurerebbe qualora la frana effettivamente andasse in azione. Ovvero i beni, quanti cittadini vengono coinvolti, quali danni si fanno alle infrastrutture primarie. Avendo tolto 10 milioni di euro e non essendo riusciti a coprire questo buco per i soldi che nel frattempo ulteriori ci aveva assegnato la comunità europea per questo problema dopo la tragedia nevesisma 2016-2017, ricordiamo tra gli altri Ligopiano, oggi noi ci troviamo 11 comuni non finanziati. Alla vigilia della stagione invernale con migliaia e migliaia di cittadini coinvolti nel pericolo che si attivino queste frane che sono lì purtroppo per potersi generale, noi riteniamo che questa sia una vera follia. Abbiamo scritto al Presidente Lolli che ovviamente svolge le sue funzioni di ordinare amministrazione per qualche giorno, da qualche giorno, gli abbiamo scritto il 27 di agosto e oggi siamo costretti come sempre non avendo ricevuto risposta a denunciare il fatto. Cosa vogliamo? Noi vogliamo che si trovino questi 10 milioni di euro togliendole a opere seppure importanti ma che possano attendere rispetto alle opere che sono collegate alla salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini abruzzesi. Andiamo avanti con la politica. Nella giornata di ieri i sindaci di Pescara e Chieti sono stati assieme ad altri sindaci di diverse città italiane a Roma in audizione alla Camera con Lanci per cercare di scongiurare la sospensione votata dal Senato del bando di riqualificazione delle periferie indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri due anni fa. non si sono presentati membri del governo e dunque annunciano i sindaci con Lanci la mobilitazione continuerà. Sentiamo il servizio. Bandi per le periferie, fondi per le periferie delle nostre città. Ieri c'è stata questa spedizione a Roma alla Camera. Sindaco Alessandrini non è andata proprio benissimo ma voi siete determinati ad andare avanti in questa battaglia? Il grido di Lanci si è levato forte e unanime nel senso che sindaci di differenti espressioni geografiche, di differenze idee politiche sono uniti nel chiedere con forza che questo congelamento venga scongiurato. Abbiamo illustrato le ragioni del perché questo è indispensabile per la vita delle comunità, per la rigenerazione urbana che deve partire dalle periferie ma non a chiacchiere con i fatti e quelli sono fatti concreti che vengono inspiegabilmente congelati. Abbiamo anche ricordato come noi abbiamo sottoscritto delle convenzioni in fascia tricolore con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste convenzioni sono state registrate presso la Corte dei Conti, queste convenzioni hanno determinato l'avvio di lavori, di progettualità di soldi che sono stati spesi e che esistono nella contabilità pubblica. Per tutta questa serie di ragioni e non ultima quella di recuperare una trama di fiducia con i cittadini perché se tu poi devi andare a spiegare che è stato congelato, funziona poco, c'è bisogno di una risposta immediata ai bisogni delle periferie e noi faremo tutto quello che è necessario come sistema, ripeto, complessivo dei comuni abruzzesi e italiani per scongiurare questo scippo istituzionale vero e proprio. Chiederete un incontro con il Presidente del Consiglio Conte? Noi faremo tutto quello che è necessario a tutti i livelli istituzionali di mobilitazione e anche di protesta. Proprio qui a Pescara nel pomeriggio, come è avvenuto già in tante altre città italiane, incontreremo le associazioni con le quali peraltro siamo da tempo in contatto. Ricordo che il Bando delle Periferie è strutturato in modo tale da immaginare forme di partenariato pubblico privato, onde fare massa critica e fare pressione affinché si possa tornare indietro su questo provvedimento poco felice. Restiamo al Comune di Pescara perché fra poco ricomincerà l'anno scolastico il 10 di settembre, dunque lunedì prossimo. C'è stato, lo ricorderete, a fine dello scorso anno scolastico il problema con le mense, l'intossicazione di centinaia di bambini delle scuole. Dunque si è arrivati a Redderazione, nuovo botta e risposta fra la Cirfood e l'amministrazione comunale pescarese. La società infatti chiede un risarcimento danni di 10 milioni di euro, l'amministrazione comunale invece va avanti per la sua strada facendo valere i suoi diritti. Venerdì incontro con i dirigenti scolastici per fare il punto sulla situazione alla vigilia appunto del nuovo anno scolastico. Sentiamo. Assessore, la Cirfood chiede 10 milioni di euro di risarcimento danni al Comune di Pescara, l'amministrazione adriatica cosa risponde? Mi verrebbe da dire che oltre al danno la beffa, la Cirfood chiede un risarcimento danni perché noi dopo la triste vicenda che ha colpito i nostri ragazzi per la riflessione scolastica abbiamo rescisso il contratto, abbiamo fatto l'interpello per chiedere alla seconda nella graduatoria fatta nel 2015 relativa al bando di poter aderire al servizio e stiamo aspettando la formalità degli atti. Crediamo che la ditta debba andarsene, chiedere scusa cosa che non ha fatto fino ad oggi ai bambini, alle famiglie e alla città di Pescara e non chiedere risarcimento danni. Noi ci tuteleremo in tutte le sedi anche perché oltre al danno per i bambini, le famiglie e l'ente comunale che parte lese in questa vicenda c'è un gigantesco danno d'immagine che abbiamo subito a livello nazionale per essere balzati alla cronaca per questa triste vicenda. Ci tuteleremo in ogni modo, tuteleremo i nostri ragazzi e stiamo procedendo con tutti gli atti per far ripartire il servizio mensa ad ottobre e per dare anche nuove opportunità. Dal proposito, la settimana prossima partirà il nuovo anno scolastico, ci saranno problemi per il nuovo servizio mensa e quando partirà? Solitamente il servizio mensa parte nel mese di ottobre, quindi stiamo lavorando per rispettare questa procedura e quindi per essere pronti alla partenza dell'anno. Incontreremo nella giornata di domani i presidi, poi incontreremo i genitori e i loro rappresentanti con cui abbiamo costruito questo percorso, stiamo tutti dalla stessa parte e vogliamo garantire ai nostri ragazzi e alla città un servizio di qualità, un servizio adeguato e tutelarli in ogni modo perché questa vicenda sicuramente non finisce qui. Adesso la cronaca, proseguono senza sosta le ricerche di Carlo Rodrigo Fattibene, il 76enne della provincia di Monza Brianza scomparso da Caramanico Terme la sera di lunedì scorso quando dopo essere uscito per una passeggiata di due ore intorno alle 17.30 non ha fatto più rientro nell'albergo dove alloggiava con la famiglia per un breve soggiorno termale nel centro della Val Pescara. Le ricerche sono andate avanti anche la notte scorsa con l'ausilio delle cellule fotoelettriche, al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e soccorso alpino e speleologico. Sono ispezionati alcuni corsi d'acqua dagli specialisti del SAF, dei vigili del fuoco, i soccorritori stanno utilizzando anche due droni considerando la presenza di una fitta vegetazione. Le ricerche sono concentrate nella valle dell'Orfento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella. Andiamo avanti con la cronaca, con l'accusa di detenzione spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Atessa hanno arrestato un uomo di Perano che deteneva oltre un chile e mezzo di sostanze stupefacenti sequestrati. 20.000 euro sono ritenuti dalle forze dell'ordine provento dello spaccio. Vediamo. E' GDR 45enne di Perano l'uomo arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Atessa assieme ai militari della stazione di Archie per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, era sotto controllo da parte dei militari dell'arma. A seguito di una perquisizione domiciliare, è stato sorpreso in casa con 1,3 kg di hashish e 350 g di marijuana. Nell'abitazione, località stazione di Perano, i carabinieri hanno rinvenuto anche 20.000 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita e un bilancino di precisione. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Lanciano in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga. La clientela era ampia e di diverse fasce d'età. Continuiamo con il nostro giornale, voltiamo pagina. Sono aperte le iscrizioni al premio Cambiamenti, un premio indetto dalla CNA e rivolto alle start-up italiane, iscritte almeno dal 2015. Ci sono già 40 le giovani aziende abruzzesi che si sono candidate all'iniziativa. In paglio ci sono 20.000 euro e un viaggio a Dublino. Sono già 40 le start-up abruzzesi che si sono iscritte al premio Cambiamenti, un premio al pensiero innovativo delle neo-imprese italiane indetto dalla CNA e che verrà assegnato a fine novembre a Roma. L'iniziativa, su base regionale e nazionale, è ormai considerata un evento di spicco nell'universo delle start-up e che ha registrato nelle prime due edizioni la partecipazione di oltre 1.300 imprese candidate con decine di eventi territoriali di premiazione. Il premio è rivolto a tutte le imprese iscritte almeno dal 2015. Quali sono i settori? Di tutti i settori. In realtà troviamo dal food, dall'innovazione tecnologica, da e-commerce, da intelligenza artificiale. Ci sono molte attività che hanno veramente delle innovazioni che le capiamo solo quando ce le racconto, in realtà non riusciamo a immaginarle prima, buon per loro che le mettono in campo. Ma anche i settori tradizionali che però hanno la capacità di innovare un business nato tradizionalmente ma guardando al futuro. Quindi mi ricordo la prima edizione, tra i finalisti abruzzesi si è proposto un ragazzo che ha costruito un incoming esperienziale turistico, quindi un'attività tradizionale legata al territorio ma in maniera innovativa e godeva di una presenza turistica del 100% dei clienti americani e stranieri. Cosa vince la start-up più creativa del panorama italiano? Il premio Cambiamenti mette in palio 20.000 euro in viaggio a Dublino per chi si aggiudicherà il primo posto. Le aziende abruzzesi hanno sempre ottenuto ottime posizioni, un'iniziativa che riafferma l'attenzione di CNA al mondo della giovane impresa. Una grandissima soddisfazione non solo per la CNA di Termo, ma anche per la CNA regionale e nazionale. È un premio che sta attirando molta attenzione, molto partecipato, per cui siamo orgogliosamente contenti perché significa che stiamo lavorando bene soprattutto per la crescita e lo sviluppo delle piccole imprese, delle start-up e quindi è la nostra mission che dà risultati. Continuiamo. Europa più vicina grazie al progetto WEAM, Ufficio Europa dell'Area Metropolitana, progetto in partnership fra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltone. Vediamo di cosa si tratta. Nasce uno sportello unico per l'Europa tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Sindaco di Lorito, non sono le prove generali queste però per la nuova Pescara? No, no, assolutamente, però questo dimostra che i comuni possono tranquillamente mettere in rete dei servizi per appunto efficientare e rispondere a quelle che sono le esigenze di una comunità senza necessariamente togliere i confini della propria città. è un ottimo risultato, quindi un in campo progettazione per l'Europa per riperire fondi, per migliorare le nostre città. Quello della spesa dei fondi europei è un problema che attanaglia un po' tutte le amministrazioni. Molte volte ci sono i fondi ma non si riescono a spendere. Probabilmente con questo ufficio, con questo sportello diventerà più semplice fare tutto questo. Assolutamente sì, ha pienamente ragione. Noi crediamo molto in questo progetto perché, ecco lo ammetto, ad esempio noi come Spoltore abbiamo avuto e abbiamo delle grandi difficoltà appunto con la progettazione e il riperimento di fondi europei e questo pensiamo che possa essere una svolta per la nostra città. Quando partirà questo progetto? So che già da lunedì la Regione Abruzzo ha convocato una riunione per appunto entrare nel merito e strutturare appunto questi fondi per appunto far partire questi centri che poi produrranno atti per far arrivare fondi nelle nostre città. Continuano le iniziative di Italia Nostra, sezione di Lanciano, per la salvaguardia del Chiostro di Sant'Agostino in pieno centro storico della città frentana, scoperta infatti una cisterna proprio sotto la pavimentazione del Chiostro. L'ascensore che dovrebbe essere realizzato nel Chiostro potrebbe pregiudicarne l'integrità strutturale. Allora vediamo il servizio. Una grande cisterna di pregiata fattura celata sotto il Chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino a Lanciano. Questo ha scoperto Italia Nostra dopo la prima segnalazione fatta alla soprintendenza dei beni ambientali e culturali di Chieti in merito ai lavori di restauro conservativo della struttura medievale. L'architetto Perluigi Vinci Guerra, presidente del Sodalizio Frentano, ha inviato una seconda segnalazione in merito alla struttura di proprietà dell'arcidioce Silanciano Urtona. Non si è fatto attendere il sopralluogo della soprintendenza con l'architetto Vincenzo Scarci, chiamato in causa in precedenza per la realizzazione di un ascensore esterno che, questo è il timore di Italia Nostra, andrebbe appoggiare sul muro perimetrale dell'antica cisterna. Questo diametro va in parte a lambire lo zatterone che stanno realizzando per poter ubicare il famoso ascensore. Ho mandato una PEC alla soprintendenza per avere chiarimenti e perché venga fatto un sopralluogo immediatamente per verificare lo stato dei luoghi. Secondo punto è che qui si è verificato un avvalamento del pavimento del chiostro. Molto probabilmente non sappiamo se è dovuto a degli scarichi di acqua piovana oppure ad altre situazioni. Abbiamo chiesto chiaramente alla soprintendenza di poter rendere la pavimentazione all'interno del chiostro, dove sono state ritrovate queste mura di fondazione, di poter piastrellare con materiale trasparente questa zona proprio perché vogliamo conoscere la storia e i collegamenti a livello tipologico con la piazza di San Giovanni con l'intera struttura oggi esistente. Da lunedì è aperta in via Francesco Crispi a Teramo la nuova sede regionale dell'EPAS Abruzzo. Sentiamo il servizio. Sede regionale dell'EPAS Abruzzo. Il primo incontro per annunciare due importanti momenti. Il primo, domani ci sarà una riunione organizzativa con tutti gli operatori della provincia di Teramo per annunciare il nuovo programma concordato con la sede centrale che prevede lo spostamento della sede provinciale dell'EPAS da via Franchi a via Lebovio per consentire una maggiore fruibilità alle persone che vengono da fuori e con il pullman e anche perché questa sede sta diventando troppo piccola per tutti i servizi che stiamo offrendo alla collettività. Quindi si è reso necessario questa riorganizzazione degli uffici con lo spostamento della sede provinciale da via Franchi a via Lebovio 27. Mentre a via Franchi verrà istituita la sede regionale dell'EPAS. Quindi abbiamo a completare un progetto importante che è iniziato 4 anni fa. Dopo di questo ci sarà l'illustrazione di un progetto importante che è la Udicon, Unione per la difesa dei consumatori, che fa parte della grande famiglia della FNA, Unione per la difesa dei consumatori, anche su nostre sollecitazioni, ha avuto l'approvazione di un progetto importantissimo per i territori colpiti dal terremoto del 2016-2017, un progetto che prevede l'assunzione di 47 giovani per il servizio civile universale. Quindi tutti i giovani che volessero partecipare al bando, il cui bando scade il 28 settembre, debbono rivolgersi alle nostre sedi dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria per ricevere le opportune informazioni. Ribadisco, servizio civile universale, tutti i giovani da 18 fino a 28 anni non debbono aver compiuto il 29esimo anno di età, possono partecipare, ma per tutte le informazioni la sede di via Francesco Franchi numero 25 sarà sempre aperta in questi giorni per consentire a tutti quelli che volessero avere spiegazioni e partecipare al bando di fare la relativa domanda. Adesso cambiamo decisamente pagina perché ci dedichiamo allo sport, partiamo dalla Serie B e dunque dal Pescara. Il buon inizio di stagione del Delfino è il frutto del lavoro di Baby Pilon dentro, ma anche fuori dal campo, intorno alla figura del tecnico di Preganziol. Tutto l'ambiente si è ricompattato, intanto nella settimana contrassegnata dal turno di riposo anche in Serie B cresce l'attesa per il pronunciamento del collegio di Garanzia del Coni che potrebbe riportare la cadetteria a 22 squadre. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Andrea Costantini. Settimana di relativa tranquillità in Casa Pescara. La sosta per le nazionali fa sì che il campionato torni tra una decina di giorni e allora Baby Pilon ha programmato per i suoi calciatori una sfida in famiglia sabato mattina al Delfino Training Center. Una settimana questa che sarà utile per procedere al recupero di chi come Vincenzo Fiorillo ha saltato la gara di domenica scorsa per una contusione alla coscia o di chi come Gaetano Monachello e Antonio Balzano ha avuto qualche contratempo. Sintomi influenzali per l'attaccante siciliano, affaticamento muscolare per il terzino pugliese. Nel frattempo si è già unito al gruppo l'ultimo arrivato, il terzo portiere Simone Farelli il cui tesseramento ha subito un'accelerazione proprio dopo il forfè di Fiorillo con conseguente debutto del giovane estremo albanese Elan Castrati il quale ai nostri microfoni ha comunque confermato di aver avuto indicazioni dalla società di essere lui il vice Fiorillo designato. Castrati che non sarà a disposizione di Piloni in questi giorni poiché è convocato dall'Under 21 dell'Albania così come non ci saranno il connazionale Ledian Mewushai convocato in nazionale maggiore Cristian Capone e Filippo Melegoni selezionati in under 20 e impegnati domani sera in Polonia contro i parietà polacchi nella prima giornata di Elite League di categoria. Al Delfino Training Center si lavorerà in un clima di grande armonia a cui concorrono non solo i quattro punti messi in cascina nei primi 180 minuti di campionato ma anche quella compattezza nell'ambiente che si sta man mano rafforzando dall'avvento di Beppi Pilon oltre a mettere in campo una squadra che non molla e che lotta fino all'ultimo il più grande merito dell'allenatore di Preganziol è stato quello di azzerare le contestazioni e ricreare nell'ambiente un clima di grande positività all'interno del quale tutti pensano al bene della squadra e antepongono il sostegno ai colori biancazzurri a qualsiasi tipo di contestazione verso la proprietà o questo o quel calciatore. Sta convincendo tutti Pilon con questo modo di comunicare schietto, diretto, senza fronzoli o giri di parole per il grande coinvolgimento che fa trasparire intorno alle prestazioni e ai risultati del Delfino e perché anche all'interno della rossa ha fatto intendere che le decisioni su chi gioca e chi no saranno prese solo e soltanto sulla base del rendimento e della qualità e intensità degli allenamenti per cui tutti possono avere una chance e nessuno finisce nel dimenticatoio. Concetto questo è ribadito a Chiarelettere anche domenica dopo la partita. È una gara fra di loro aperta nel senso che quando facciamo gli allenamenti sanno che si conquista il posto lavorando duro perciò questo è molto importante per tutti e credo che sia questo che ci farà fare il salto di qualità. Se questa settimana sarà priva della giornata di campionato comunque non mancherà una partitissima quella che si gioca davanti al collegio di garanzia del CONI che da mezzogiorno di venerdì 7 settembre si riunirà a sezioni unite per esprimere una serie di verdetti che rischiano di rimodulare il campionato cadetto. In sostanza l'organo preseduto dall'ex ministro Franco Frattini dovrà dire se è stato regolare il cambiamento del format della Serie B da 22 a 19 squadre e dovrà fare luce sui criteri attraverso cui individuare le eventuali squadre da ripescare. Alla finestra restano in trepidante attesa Catania, Novara, Provercelli, Ternana, Siena e Virtus Entella. Alla finestra anche la Lega di Serie B che potrebbe trovarsi costretta a riformulare il calendario mantenendo acquisiti i risultati delle prime due giornate di campionato. L'ultimo arrivato in casa Teramo è Francesco Pacini portiere proveniente dal Novara che va a colmare la lacuna lasciata dall'infortunio di Gomis. Queste le sue prime parole da Neo Biancorosso. Sentiamo Ania Cantagalli. Francesco è arrivato Di Gregorio al Novara ci sono stretti un po' i posti e tu hai scelto Teramo immagino per giocarti le tue chance. Sì esatto vengo qui con grande entusiasmo ringrazio la società della possibilità e vengo come hai detto a giocarmi le mie carte vediamo quello che succederà. Quali sono state le prime impressioni della squadra che hai trovato? Sono contentissimo di essere qui ho visto un gruppo sano un gruppo compatto per quel poco ho visto bravi persone oltre che bravi giocatori quindi sono molto contento di essere qui. Adesso siete in due tu e Lewandowski poi quando tornerà Gomis sarete anche in tre la lotta sarà molto serrata. Fa parte un po' del nostro ruolo insomma io credo che ormai il ruolo del portiere non è più come era qualche anno fa in cui c'è un titolare un dodicesimo un ruolo che comunque è costantemente sotto pressione e tutti i giorni si è in discussione quindi è un ruolo che si è allineato un po' ai ruoli come possono essere la difesa al centrocampo l'attacco in cui c'è massima concorrenza e nessuno ha il posto assicurato. Parlaci un po' delle tue caratteristiche sei uno a cui piace uscire a cui non piace. Ma come ti dicevo prima ormai il ruolo del portiere è cambiato tanto anche sotto quell'aspetto perché comunque ormai devi sapere essere bravo in tutto e devi essere un portiere completo a 360 gradi quindi a definirmi ci penserete e poi voi io non so darmi delle definizioni ben precise. Senti a Novara come sta vivendo l'ambiente e l'attesa di questa sentenza del collegio di garanzia del CONI secondo te c'è effettivamente la possibilità di una serie B? Io sono stato anche con Marco Chiosa capitano a Roma per la riunione dei rappresentanti e le premesse non sono delle migliori però ormai siamo abituati a vederne in tutti i colori quindi non mi stupirei neanche se fosse ribaltata di nuovo la sentenza dico la verità. Conoscevi qualcuno del Teramo della squadra? No l'unico che conoscevo e che non c'è e che ho conosciuto l'anno scorso e che ci ho giocato conto è l'Isgomis però non c'è quindi no non conoscevo nessuno E Zichella che è lì il mister ti ha già detto qualcosa? Sì sì abbiamo già parlato con il mister Giocherai titolare? Ah non lo so chiedetelo a lui Adesso lasciamo la serie C scendiamo in serie D restando al calcio perché sono stati da poco resi noti i calendari per il campionato che inizia il 16 di settembre ecco qui la prima giornata che vede il big match con inizio davvero in salita per l'Avezzano contro il Cesena partita che si disputerà al Dei Marsi con ritorno lo leggete il 6 di gennaio a Cesena poi le altre partite della giornata Castelfidardo San Nicolò Notaresco Forlì Isernia il derby Francavilla Pineto e poi Matelica Vastese Olimpia Agnonese Real Giulianova Re Canatese Iesina San Maurese Montegiorgio San Giustese Città di Campobasso e Sant'Arcangelo Savignanese questo per la prima giornata andiamo a vedere anche la seconda in programma il 23 di settembre con Campobasso Francavilla Esernia San Giustese Iesina Sant'Arcangelo Montegiorgio Avezzano Pineto Matelica Cesena Agnonese Giulianova Castelfidardo San Nicolore Canatese Savignanese Forlì Vastese San Maurese Abbiamo la schermata della terza giornata eccola qui con Avezzano Castelfidardo Forlì Pineto Francavilla Montegiorgio Iesina Savignanese Matelica Cesena Agnonese San Nicolò Notaresco Re Canatese Isernia San Maurese Real Giulianova San Giustese Vastese Sant'Arcangelo Campobasso queste le prime tre giornate di campionato in Serie D naturalmente potete seguire come sempre il campionato di Serie D sulla nostra emittente sia con Diretta Stadio per seguire dal vivo le partite nel loro sviluppo che poi con Abruzzo del Pallone per rivedere i filmati ed avere anche le voci dei protagonisti dai campi andiamo avanti con il nostro giornale con la pagina sportiva adesso ci occupiamo di atletica perché è tutto pronto per i campionati italiani assoluti di atletica leggera che si disputeranno allo stadio Adriatico Cornacchia il 7 l'8 e il 9 di settembre vediamo è uno degli appuntamenti sportivi più importanti di questa stagione parliamo dei campionati assoluti di atletica leggera che si terranno allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara assessore non solo calcio anche atletica in una struttura completamente rifatta per quanto riguarda la pista dello stadio Adriatico è un grandissimo evento è il terzo nella storia di questa città in 67 edizioni che giunge a Pescara ed è uno dei più grandi se non il più importante evento per quanto riguarda l'atletica leggera a livello nazionale credo che l'Abruzzo nelle varie discipline in questo caso nell'atletica leggera e con l'atletica leggera si sia davvero fatto conoscere abbia organizzato e bene con le tante società federazioni città amministrazioni comunali e rappresentato una vetrina una promozione dell'intero territorio delle sue infrastrutture e della sua organizzazione siamo veramente orgogliosi come Regione Abruzzo di aver sostenuto anche quest'ulteriore grande manifestazione come assessorato allo sport avete puntato anche sui grandi eventi quest'anno e tra qualche settimana ce ne sarà un altro il trofeo Matteotti che torna in una nuova veste e nuova data e abbiamo voluto contraddistinguere il lavoro di questo governo regionale sullo sport con una grande affermazione sia ai fatti e non agli slogan basta agli annunci vogliamo passo dopo passo portare a casa importanti risultati e voglio ricordarlo dal ciclismo al tennis dal volley al calcio dallo sci per arrivare al golf e a tanti altri eventi abbiamo rappresentato con onore tutti insieme con il mondo dello sport la Regione Abruzzo abbiamo organizzato da quando è stato fatto lo stadio almeno 35 manifestazioni internazionali per cui non è che ne sono poche rispetto ad altri territori ad altre organizzazioni ad altre società e quindi per noi questo è un qualcosa che ci ha spinto però quando siamo partiti eravamo un po' perplessi per quello che succedeva ma sono stati veramente bravi delle istituzioni è tutto per quanto riguarda questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale Youtube il TG6 torna alle ore 19 buona giornata e sul nostro